Virus influenzale per quattro calciatori, qualche decimo di febbre per Delemona, che desogus, cancellotti e germinario, tutti comunque recuperabili. Contro il Monopoli, match in programma domenica l'Adriatico Giovanni Cornacchia, alle 17.30 torneranno Brosco e Milani. Fuori Crescenzi, fermato per un turno dal giudice sportivo. Sempre ai margini, causa infortunio. Il portiere Plizzari, a centrocampo Giabua Insidia Craia. In attacco, se è probabile, la conferma di Colai nel tridente, completato da Merola e Lescano. Un giocatore squalificato anche nel Monopoli. Si tratta dell'esperto centrale di difesa, Nicola Bizzotto. Ben quattro gli ex, Michele Fornasier, Mirko Drudi, Carlo Derisio e Giovanni Pinto. L'unico che sta giocando con continuità è Carlo Derisio. Biancazzurri sempre terzi in classifica, ma con un solo punto di vantaggio sulla Foggia. È impegnato a Catanzaro, a tre lunghezze Picerno e Cerignola. Dunque Pescara tuttora arbitro del suo destino, ma contro i pugliesi non potrà fallire. A Taranto, zero tiri in porta, completamente bucato l'approccio, ma anche l'atteggiamento. Quando non pareggi la carica agonistica dell'avversario, soprattutto pensi di aver vinto una gara ancora prima di scendere in campo, la sconfitta, tra l'altro pesante, è una logica conseguenza. Mai più peccati di presunzione.